Maestro Carella, un calcio allo sterno e un pugno mortale hanno ucciso Willy Monteiro Duarte. Come possono succedere fatti di cronaca così devastanti? È una situazione inspiegabile. Si tratta di quattro assassini, quattro delinquenti che hanno poco rispetto della vita, poco rispetto di loro stessi e che hanno reagito in una maniera indescrivibile contro un povero ragazzino. Quindi per me non sono neanche classificabili tra gli uomini questi quattro soggetti. Poi accanirsi così sul ragazzino e ci troviamo oggi a dover parlare di questo episodio che mai nessuno avrebbe voluto ascoltare e vivere. Lei in palestra cosa insegna innanzitutto agli allievi? La disciplina, lo sport, lo sport è la Muay Thai che non è assolutamente violenza, non è assolutamente una rissa per strada. È un'arte da combattimento, ci si impara anche a difendere che in situazioni estreme è uno sport che può salvarti la vita. Ma noi facciamo uno sport, è la nostra vita. Io guardo negli occhi i miei atleti e cerco di capire che persone ho di fronte. Sono tutti ragazzi che vengono da svariate dinamiche. C'è quello più difficile, c'è il bullo, c'è chi si avvicina alla palestra perché è dalla parte del debole e chi si avvicina alla palestra perché vuol sentirsi invincibile. Poi sta a noi metterli sullo stesso piano e quindi spiegargli quello che è lo sport facendoli vivere, non dandogli delle direttive che nessuno ha. Secondo me quando c'è un disagio del genere, un evento del genere, lo sport c'entra nulla. C'è una dinamica familiare difficile, c'è una persona malata dentro perché in 5 contro un ragazzino di 50 kg o sei malato o sei delinquente. Quindi aggredendolo in quel modo. Poi è questo. Una volta arrivati in palestra ci sono delle regole. Nella mia palestra c'è la regola che chi è coinvolto in una rissa, ovviamente per motivi non seri, non per difendersi. Io strappo l'abbonamento, è la prima regola che c'è nella mia palestra. Strappo l'abbonamento e io non voglio avere niente a che fare. Con la droga e con i bulli noi non c'entriamo niente. Quindi la Muay Thai è autodifesa, non attacco? È autodifesa, sì. È un'arte da combattimento. Io per quanto riguarda quello che succede in mezzo alla strada è tutto imprevedibile. Poi è chiaro che chi si allena, chi fa MMA, chi fa Muay Thai, chi è un pugile, in mezzo alla strada magari in una situazione di pericolo può uscirne fuori in maniera diversa da uno che non ha mai fatto nulla e viene preso dal panico. Però è una rissa e non ci sono regole. Io insegno sempre ai miei ragazzi quando c'è una situazione del genere o ci mettiamo a difesa dei più deboli e ci prendiamo la responsabilità di difendere qualcuno che è in pericolo, quello assolutamente sì, un bambino, una donna, un ragazzino come poteva essere Willy oppure è meglio evitare qualsiasi tipo di contatto e andare via. Quindi riassumendo che valori diamo a questi ragazzi? In palestra si può imparare qualcosa di importante per la vita? Si deve imparare. La palestra è una scuola di vita. Io ho sentito dopo questi episodi ovviamente viviamo in un momento di profonda crisi, di valori e ho sentito proposte chiudiamo tutte le palestre di sport da combattimento, delle cose veramente assurde ma non perché io abbia una palestra di sport da combattimento ma perché non è logica questa cosa qui. La palestra è un luogo dove i ragazzi crescono, dove i ragazzi hanno dei riferimenti, hanno un obiettivo. Io quando insieme ad alcuni amici ho fondato il Black Corner era appunto quello, dare un'alternativa a quello che una cittadina come Policoro, piccola cittadina, offrisse. Quindi un'alternativa che sia uno sport da combattimento assolutamente i valori sono quelli dei più sani, più puliti, creare un team. Poi in palestra abbiamo tutti i ragazzi da svariate situazioni quindi il valore è quello. Poi gli esempi che si danno noi maestri, noi istruttori dobbiamo dare degli esempi sani sportivi ma per me è una scuola di vita la palestra. È quello che il mio maestro ha dato a me quando ho iniziato io. Non mi sarei mai permesso di andare per strada a picchiare la gente. Poi è chiaro che le mele marce ci sono negli sport da combattimento. Io non sto dicendo che siamo tutti santi e che assolutamente no. Assolutamente non è questo il messaggio che deve passare perché come in tutte le categorie in tutti i lavori ci sono le mele marce e ci sono i ragazzi con dei principi sani. In palestra noi cerchiamo di fare il possibile per questi ragazzi. Tante volte vinciamo, tante volte perdiamo e dobbiamo alzare le mani e dire è un ragazzo che non si può recuperare. Per fortuna io ho avuto pochi casi di questo tipo. Tutti vedono la mia palestra come una famiglia e questo mi fa piacere. Anche chi è andato via, ragazzi che è andato via, io ho sempre un bel ricordo di tutti loro. Adesso passiamo in particolare alla sua di palestra. Quando riapre e con quali regole? È stato un anno difficile per tutti a livello sportivo, parliamo a livello sportivo ma è un anno difficile in tutto e abbiamo dovuto chiudere come tutti per un po'. Abbiamo ripreso giugno-luglio ad allenarci all'aperto, abbiamo cambiato sede, ci siamo ampliati, abbiamo preso una sede più grande che è in Viale Salerno, l'ex club 88, quindi abbiamo approfittato di questa chiusura per ringrandirci, anche per dare un segnale ai ragazzi da parte mia che non è una sconfitta quello che abbiamo avuto ma reagire e quindi tornare più forti di prima e speranzosi soprattutto. Abbiamo comprato un ring olimpione, un ring regolamentare, ci sono tanti programmi in ballo, io con il mio maestro Claude Alberton siamo in costante contatto, stiamo aspettando che ci diano il permesso per riprendere, organizzare degli eventi, avevamo i miei ragazzi, soprattutto i professionisti avevano già tre match in programma che purtroppo sono in dubbio perché non sappiamo dopo novembre come ci si può regolare, noi ci alleniamo, abbiamo tanti ragazzi nuovi, lunedì riprendiamo gli allenamenti con tutti i turni regolarmente, secondo me sarà una stagione, io la vedo in maniera positiva, ci rialzeremo e combatteremo ovunque, dove ci chiamano, come sempre. Viva comunque lo sport sempre? Sempre, viva lo sport, qualsiasi sport, per me l'ho detto, non è mai stato un lavoro, è sempre stato il motivo predominante di tutto, lo sport è educazione, cultura, assolutamente i ragazzi devono andare in palestra a frequentare le palestre, questi episodi come al malcapitato Willy non c'entrano niente con lo sport, l'MMA è uno sport nobile come lo è il pugilato, come lo è la Muay Thai, io sono nell'ambiente da un po' di anni, conosco tutti, quindi non deve assolutamente passare quel messaggio che ci stanno facendo passare, sono dei delinquenti ed è giusto che paghino e spero paghino il più a lungo possibile, noi ci stringiamo come Black Corner attorno alla famiglia di Willy e speriamo queste cose non accadino più.